Musica Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mega Super Axis Io sono Mega Super Axis E oggi siamo su Minecraft Allora Che cosa dovevamo fare? Non me lo ricordo più Vabbè tutti i dettagli, tutti i dettagli Ah Voilà Ok Allora Il sole sta tramontando e non credo che sia una bella cosa Ma io in realtà non so che fare Ah ecco ora si che mi ricordo Allora Ah vi devo dire una cosa molto carina e molto simpatica Intanto aspettate per vedere un attimo una cosa Ok 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 Ehm In off camera Sono andato un poco alla scoperta di Narnia Non riuscivo a A resistere alla tentazione Guardate che cosa ho trovato C'è 5 diamanti Mi pare di aver fatto uno screenshot che vedrete proprio in questo istante Ehm Ehm E niente Oggi andremo alla scoperta di Narnia Come ho intitolato il video Infatti E come credevo Era in pacifica Perché Sto facendo un gameplay solo sulla mod pixelmon E Visto che è complicato Ottenere il cibo Me lo sono messo in peaceful Allora Ma non perdiamoci in chiacchiere Dove c'è Dove era quello spiazzale enorme Meraviglioso Ah eccolo qua Allora C'è ragazzi Evvivo gli zombie Ah eccolo qua Non l'avevo visto Ma io ho messo bright Si l'ho messo E ho sentito anche Lo scheletro Ah infatti Che mi lancia una freccia Luridissimo Voila Trovatemi una cosa del genere Oh Pace del ferro Non l'avevo visto dire il vero Ragazzi L'ho visitata sul serio La caverna Non prendetemi per uno Che ha messo la creativa E che ha preso le cose Perché io non sono una di quelle persone Che fa queste cose Io non imbroglio mai le persone E mi si è bruciato un pezzo di ferro Cioè sto dicendo Stavo facendo un discorso così toccante E mi si brucia il ferro Eh vabbè Aspettate Ma io ora mi posso fare Da qua io posso risalire No Non credo I don't think E invece Devo credere di si? Vediamo Vediamo 68 fps Pochini sono Oddio Da dove Da dove avevo salito Sul serio Da dove avevo salito Uh Ferro Ok Dov'è? Ah eccolo C'è sta mosca Che mi ronza intorno Che mi rompe Mamma mia Cioè Ma se cadevo Non ho carbone Non ho carbone Da 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 Eh, non c'è niente Che delusione, veramente Ok, boom Ragazzi, non credo che questo video durerà molto Anche perché oggi pomeriggio ho una marea di impegni Quindi vi faccio il video per non farvelo non avere Però, dico non dovete rompere le scatole Ah, ok Vabbè, allora Ragazzi, mi era venuto in mente Non ci credo C'è l'unico buco E io ci vado a cadere come un deficiente Credo che quella mia compagna abbia proprio ragione a definirmi stupido Forse No, 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 è vero Io sono intelligentissimo Io sono bellissimo Io sono amatissimo Beh, in effetti sono la persona in classe più Più spiritosa Più presa in considerazione, però Non voglio vantarmi troppo Quindi Vabbè Non so che dire Sono un ragazzo Che ama Internet Il computer Ehm Avemo ritorito il saluto Cesare Non lo so Non so che cosa ho appena detto E non so che cosa sto dicendo Ehm Perché io faccio discorsi alla random Quando non so che cosa dire Sembra strano Ma è proprio così O almeno quando devo parlare Con qualcuno Oh, 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 oh Buongiorno signore Lenderman Eh Sì, ecco, lo raggiungo Facile, così Ah, ragazzi Ehm Questa è una cosa Che farà molto piacere ai maschi Non so alle femmine Ehm È uscita oggi la notizia Proprio oggi Fresca fresca Che Justin Bieber Attenzione È stato Oddio È stato Arrestato Sembra strano Ma è la verità È stato arrestato Perché era Perché Si drogava E beveva Ma 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 Ah, eccolo Il disgrazi È verissimo Aspettate Faccio una cosa tattica Tattica, tattica Tattica, tattica Tattica, tattica, tattica Ah Vabbè Eh, dettagli, dettagli 23 di ferro Sì, 23 di ferro 23 di carbone Mi basteranno Oh, sta mosca Che rottura Ehm Com'è che ancora la fame Non mi diminuisce Vabbè A parere mio Sta diventando Una bella casuzza Però Deve essere migliorata Cosa che Farò Subito Subito Aspettate Non niente Niente Drop Non c'è drop Pazienza Grazie Eh, andiamo Eh, vabbè Ho soldo di Pietra Di pietra Ciao Di terra Di dirt Mi devo abituare A dire i nomi In inglese Perché Perché Minecraft Deve essere apprezzato Per quello che è Ovvero Un gioco In inglese Cioè In inglese Perché poi Non è inglese Come gioco È Svedese Perché Marcus Persson Anche detto Notch Era Svedese Anzi È svedese È vivo State tranquilli Il nostro eroe È ancora vivo Questi 46 semi Io li Pianto Di nuovo In verità Non so Da quant'è Che stiamo Registrando Quindi vedo Un secondo Solo È da circa 10 minuti Che stiamo Che sto Registrando Eh Fraps Mi dà Soddisfazioni Ecco Che cosa Che manca Che manca Fraps Oh grazie Un contatore Per i minuti O Vabbè Sì Per i minuti Che Che si possa Registrare Perché Sennò Poi si perde La cognizione Nel tempo Ci si diverte Troppo E quindi Arrivano i video Di 47.000 ore Così Detto Papale Papale Dai Il nostro mondo Sta cominciando A pigliare forma Più o meno Forse Non è vero Ah ragazzi Come anticipato Avevo detto Che Questa Costruzione Diventerà Diventerà Ha Diventerà Una Stupida mosca Diventerà Una biblioteca Quindi Mi prendo Le canne a zucchero Perché Possono sempre Servire Ecco Qua l'ultimo Pac Oddio Che figo Eh Si è fatta notte Si è fatta notte Quindi io direi Di andare a dormire E Di craftare Alcune librerie Vabbè Eh ragazzi Come la scorsa volta Ho premuto il tasto Di Insomma Quello Eh Ma che siete Dove Boom Eh Di questo Io non so che farmene Si Certo Ai 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 Ah vero Prima devo craftare i libri Si craftano ancora così? No Niente Hanno cambiato Eh Quanta pelle ho Vabbè Vado ad ammazzare un po' di mucca E ci Rivediamo Oddio 30 fps Perché Ah vabbè Ho mozilla aperto Poi cos'altro ho aperto Questo 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 E steam Che secondo me Prende molto Secondo me Ah Non lo so Eh ragazzi Quindi Ci vediamo dopo Quando ho sterminato Alcune mucche Insomma ragazzi Sono andato in caccia di mucche Ho preso soltanto Sette di pelle Però Ce ne facciamo Ah no Ne ho presi soltanto poche Insomma Eh Facciamo i libri Sette Eh E facciamo delle librerie In questo caso due Boom Soltanto due Eh Insomma Col tempo Noi Sì Ambarba Cicciccocco Tre cipette Sul coma Vabbè Insomma Mi avete capito Ehm La farò molto alta Ah vabbè Poi qua Ora qua Devo fare Tutto un Ambaradan Di cose Assurdo Allora Perché in pratica Devo salire 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 No Ho sbagliato In questo caso Scendo Ok E salirò Salire Salire No Per favore Fammi durare Lascia Uno Due Tre Quattro Questa Sarà La nostra Libreria Che poi La fin fine È anche visibile Da lontano Quindi ci può Pure fungere Da faro No È da 16 minuti Che sto registrando Ragazzi E quindi possiamo dire Che ci vediamo Alla prossima volta Quindi Rimanete aggiornati Su tutto quello Che faccio Andando nella mia Pagina di Google Plus Poi Mettetemi Dei suggerimenti In quanto Insomma Per la serie Se volete Che faccia Qualcosa Altro In questa serie Al posto Che Fare U Non so Quale sia L'azione Che corrisponde Al verso U Però Vi ripeto Mettete Un bel like Anche se Non ve l'ho Detto Una prima volta Mettete Un like E Un commento Così La nonna Pina Vi farà I biscotti Chiunque Sia Nonna Pina E Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ragazzi Ora sto Facendo Delle piccole Modifiche Vediamo Un po' Come sta Questo pilastro Ilala E Che classe Insomma Ragazzi Ci vediamo Una prossima Molta Arrivederci Ciao Ah